E chissà che partita sarà. Io so che comincerà 0-0, noi abbiamo voglia di fare bene, di vincere la partita e penso che Andrea Viene non perderà la partita. È vero che le ultime partite avevano delle grosse difficoltà di mettere 11 in campo. O perché chi è sceso dall'ero e doveva giocare per necessità, o perché dopo due allenamenti penso che i giocatori non possono capire quello che un allenatore vuole e chiede, visto che hanno giocato nelle squadre diverse, sicuramente in altro modo. Quindi sul piano di assemblamento della squadra è difficile in campo poi conoscersi, visto che hanno fatto due allenamenti e non si conoscono. E quindi il problema è anche lì. In più ci sono stati grossi problemi in difesa.